così per fare un'analisi di quello dal punto di vista storico del perché siamo arrivati fino a questo punto. Temo che la colpa sia in buona parte di Eisenhower e dello sbarco di Normandia, perché il porto di New York a quell'epoca, come tutti sanno, era controllato da Cosa Nostra e occorreva per la logistica dello sbarco di Normandia che il porto fosse efficiente e quindi come a molti atti giudiziali hanno registrato ci fu un accordo che prevedeva da un lato la scarcerazione di Franco Stello che era stato arrestato e dall'altra parte l'indipendenza della Sicilia. Questo accordo dopo la guerra dette origine a questo statuto differenziato della Sicilia che poi consentì, devo dire, con intelligenza anche ad altre regioni, ma per ragioni completamente diverse. Erano regioni di frontiera, erano regioni che avevano bisogno di gestire minoranze linguistiche, tensioni molto molto gravi e quindi nacquero le regioni a statuto speciale che sono delle regioni che obiettivamente hanno facoltà, addirittura in Sicilia le leggi elettorali dei comuni sono gestite dalla regione con un sistema che è completamente diverso da quello del territorio nazionale. E questo a un certo punto viene acchiappato dai teorici, con un meccanismo identico, dai teorici della secessione che non si incarnano necessariamente in un partito politico, i quali evidentemente anche con un atteggiamento tattico, perché io non posso pensare che qualcuno pensasse seriamente di staccare la Lombardia o il Veneto, anche perché mio nonno in Veneto ci è andato a combattere, e la brigata Bari per evitare che gli austriaci dilagassero a Bassano del Grappa si è immolata con centinaia di morti al ponte San Lorenzo, quindi era difficile che si dimenticasse la storia della cosiddetta ultima guerra di risorgimento. E quindi sinceramente quando siamo passati, perché è sempre una questione di soldi Presidente, ma è inutile che ci pigliamo in giro, è sempre una questione di soldi, ed è ovvio che normalmente chi ha in mano una forza e un'energia tende a conservarla, anche se di natura finanziaria, l'idea di dover sostenere altre parti del Paese corrisponde alla tipica atteggiamento degli Stati nazionali, non è l'atteggiamento degli Stati regionalisti o federali, e devo dire che persino negli Stati Uniti gestire la federazione che è pure fatta di stati giganteschi, non è semplicissimo. E in questo processo si dice, il centrosinistra scrive il 116,3, che è l'unica argomentazione che mi viene opposta quando… e io purtroppo però a quell'epoca, se non mi ricordo male, non mi occupavo di politica, non mi ricordo neanche esattamente come è andata, di recente ho parlato con D'Alema che era Presidente del Consiglio e mi ha detto, no ma io ero contrario, lo dissi anche ad Amato, che ero contrario, e poi le cose sono andate come sono andate. viene scritta una norma per trattenere alla patria chi se ne voleva andare. Ora, l'assetto di questa vicenda rimane inchiodato per moltissimi anni, viene sì fatta la legge Calderoli 1, che è quella sul federalismo fiscale, ma sostanzialmente non succede nulla, perché i LEP non vengono mai definiti, anche perché… non lo so come si definiscono i LEP, ho provato a… come si fa col sudoku, con altri giochi di questo genere, ho provato a capire come si potrebbero scrivere dei LEP, in realtà i LEP sono la politica, sono l'articolo 3 della Costituzione, sono il principio d'uguaglianza, ed è una roba che non si fa con una commissione, si fa governando, si fa legiferando, si fa lottando, si fa sui diritti, sulle infrastrutture, sull'efficienza, sul modo di esprimersi dei territori, ma anche sul diritto. Io ho sentito l'audizione del collega delle Marche, che per oterogenesi dei fini voleva sostenere le ragioni dell'autonomia, ma in realtà nel suo intervento ha chiaramente sostenuto le ragioni di un governo nazionale delle infrastrutture e forse non se ne è accorto perché è una voce dal sen fuggita, anche perché queste ovviamente sono materie per parolai come me, io ho lavorato sempre con le parole e quindi so come utilizzarle in tutte le maniere, con tutte le capriole necessarie. Quel che dispiace in questa vicenda è che venga addirittura contrabbandata per una cosa che si fa per il mezzogiorno, perché non ce lo meritiamo, non ci meritiamo di essere trattati così, ve lo dico dal profondo del cuore e con sincerità, perché che due regioni facciano dei referendum regionali per consentire al Sud di diventare efficiente, è una roba che Cozzalone avrebbe potuto utilizzare come base per il suo prossimo film e quindi è irridente essere irrisi in una condizione di difficoltà, perché il Sud è in una condizione di difficoltà, irrisi anche quando si fa uno sforzo enorme come stiamo facendo in Puglia negli ultimi vent'anni per venire fuori dalla cosiddetta questione meridionale, con tantissimi problemi e devo dire con tantissime ancora mancanze da parte nostra che nessuno nasconde, ma devo dire anche con tantissime mancanze da parte del Governo nazionale, perché effettivamente ciò che rende difficile difendere l'attuale situazione è che non è stata utilizzata in modo adeguato. Allora si dice, siccome i meccanismi perequativi naturali dello Stato nazionale incarnati dall'articolo 3 della Costituzione e dal 119, se mi permettete anche perché ce li ha dentro i meccanismi perequativi, siccome non hanno funzionato, adesso ve li togliamo, siccome non ha funzionato il sistema come avrebbe dovuto, adesso ognuno si chiami delle materie supplementari e vi faccio una domanda, ma nella legge Calderoli c'è scritto in base a quali criteri il Governo può dire sì o no? O è l'articolo 5 chi è in mano ha vinto? E che succederà quando l'articolo 5 determinerà la violazione dei principi costituzionali? Un inferno di ricorsi alla Corte Costituzionale, un inferno di atti amministrativi, diciamo, che rispondono a legislazioni regionali che non corrispondono alla Costituzione e immagino quante volte il Governo dovrà impugnare le leggi delle Regioni per incompatibilità con la Costituzione e quante volte i giudici le dovranno disapplicare per contrasto con le direttive europee perché è stata progettata una babele giuridica di dimensioni senza precedenti, quello che sto dicendo rimane verbale, giusto? Quindi fra una decina d'anni, ammesso che il Signore ci dà questo privilegio di rileggere il verbale, poi ci divertiamo perché in tutta sincerità io non mi so immaginare nessuna organizzazione umana che come l'autonomia differenziata incarna il principio di palla fai tu. Palla fai tu significa che ciascuno di noi da domani chiude gli occhi e in base agli umori locali, alle condizioni particolari, alle esigenze elettorali, fate voi, sono infinite le ragioni, io sinceramente pensavo che la politica fosse meno razionale di quanto in realtà è, perché invece nel farla mi sono accorto che come la fisica, la politica non fa sconti, arriva il giorno in cui si è sbagliato nell'immaginare la prospettiva, che ne so, sull'Ilva, facciamo un esempio a caso, e se invece altri avevano fatto un ragionamento felice, arriva il giorno in cui si capisce se uno aveva torto o aveva ragione. Ora, su questa storia il Parlamento, questo Parlamento, sta assumendo una responsabilità senza precedenti, perché lo fa? Perché tanti deputati del Mezzogiorno e anche non del Mezzogiorno, perché questo fa male a tutta l'Italia, questo meccanismo, non fa male solo al Sud, noi per dirla con calderone, peggio di così, non possiamo stare. Quindi, anche se la doveste fare, alla fine cercheremo di combattere, di resistere. Ma, finisco, finisco, mi stava venendo bene, quindi, indurgevo, vi avevo visto attenti, almeno gli altri. Dicevo quindi che, io mi chiedo, perché questa questione è diventata urgente, da fare ad ogni costo, nonostante le evidenze sulla impossibilità di fare una politica per equativa reale in un momento, diciamo, in cui sono 25 anni, 30 anni che l'Italia non riesce ad avere una crescita economica decente, si può immaginare un meccanismo di redistribuzione dei poteri dell'interno della Repubblica e della governance in un momento così lungo di crisi e di mancata produzione della ricchezza, o meglio ancora, della finanza pubblica, per essere più chiari. Allora, se tutto questo vi sentite di assumerlo sulla vostra responsabilità, fatelo. Noi, diciamo, la Puglia e le regioni del sud in qualche maniera faremo. Certo, la furbizia di inserire la norma in un annesso finanziario, la maggioranza rafforzata con il quale viene approvata l'intesa, tutte finalità per cercare di evitare che la Corte Costituzionale non metta mani a questa roba, ma voi siete il Parlamento, siete più importanti della Corte Costituzionale. Perché la Corte Costituzionale ci mette una pezza, ma il sovrano è il popolo italiano che attraverso voi si esprime e quindi mi auguro che decidiate per il meglio. È una delle poche cause che so di perdere prima ancora di cominciarla, quella che ho fatto. Ma siccome è una causa giusta, va comunque combattuta, scusatemi se vi ho fatto perdere tempo.